Adati! No! Alla giudizia! Mi sono venuti! Mi sono venuti! Arrivi! Chiani? Mi sono venuti! Mi sono venuti! Sì... Ehi! O che è? Eh? Fa come te! Non tutto vinti! Per quanto? Oh, no! Ma non lo faccio! E' un po' di cari! 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 Il qu' di cari non voli! Qu'y c'est pas poli! Qu'est-ce pas poli?! Qu'est-ce pas poli?! Qu'est-ce pas poli? Qu'est-ce pas poli? Qu'est-ce pas poli? È un uomo, ma è in questo tuo libro... e se non è un uomo... Mamma, è un uomo qui è il tuo libro? È un uomo! È un uomo! È un uomo! Oh, no, no! È un uomo! È un uomo! È un uomo! Non è un po' di bolo fulgore? Si, vanno far fuori e io che mi ha detto, dite me! Oh, ma niente rida, ho tornato in azia! Ehi, vanno a te bolo! Ciao! 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 Oh, il calde! Eh? 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 Oh, il calde! si s on C'è un po' di volta, c'è un po' di volta, c'è un po' di volta!